Buonasera a tutti e ben ritrovati al TG7 Basilicata, al nostro quotidiano appuntamento con l'informazione. I militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato una ditta di Cerniola che si occupa della rivendita all'ingrosso e al dettaglio di bevande alcoliche. Le Fiamme Gialle hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone indagate per ricettazione, sottrazione all'accertamento o al pagamento della CISA sulle bevande alcoliche, uso di contrassegni di Stato contraffatti, commercio di sostanze alimentari contraffatte ed adulterate e autoriciclaggio. Nel corso delle indagini è risultato che i prodotti alcolici sequestrati erano stati uscelati con additivi chimici altamente dannosi per la salute umana, imbottigliati con marchi contraffatti di note case produttrici del settore e sigillati con contrassegni di Stato falsi. Le contraffazioni scoperte hanno riguardato famose etichette di bevande alcoliche, tra cui marchi Mechandone e Rundonpaba, ma anche preparati alcolici per cocktail e bevande alcoliche di largo consumo. Trent'anni fa, il 19 luglio 1992, moriva nella strage di Via D'Amelio il giudice Paolo Borsellino, da sempre collega ed amico del giudice Falcone. Borsellino ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia, due uomini che hanno infarto un duro colpo alla mafia affacciandone condannare molti cruciali esponenti, ma che per questa ragione hanno pagato con la vita. Sono diventati infatti martiri caduti sul fronte della lotta proprio alla mafia. La chiesa, il monastero della Santissima Annunziata di Genzano di Lucania, è per la Basilicata al primo posto della classifica provvisoria dei luoghi del cuore. Promossa dal FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, ricordiamo che si può votare fino al 15 dicembre 2022. Siamo quasi in chiusura, vediamo il tempo per domani, tempo solleggiato e temperature in progressivo aumento con valori superiori alle medie climatiche, con picchi che sfioreranno i 35 e 37 gradi. Per questa sera è davvero tutto, l'appuntamento è domani, grazie e arrivederci.